vai ten sulle braccia prima da dentro ten sulle mani soltella, uno, due dai, non andare tanto indietro che poi, non andare tanto indietro, dai uno, due, tre uno, due, gancio, dai così, continua molto bene, quattro colpi ok, vai avanti tu, così vinci se vai indietro aggressivo, manco aggressivo parti più veloce con i pugni stai andando bene, ma più veloce toglilo e rientra vai avanti un po' vai un po' avanti montanti, montanti montanti 4 veloci ten sulle mani ti ho detto, ten sulle mani così, stai attento al gancio dai destro, gancio destro destro, gancio destro destro, gancio destro Manuel dai Manuel dai Manuel, dai potenza Manuel dai Manuel, quattro colpi quattro 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 veloci quattro veloci ho detto quattro ho detto quattro Manuel così, continua attento attento, non lasciarlo quattro veloci Manuel, sta finendo questa ripresa dai ok destro, gancio destro destro, gancio destro bravo toglili quel gancio schivalo e rientra bravo destro, gancio destro schivalo così passo perno bravo montante così bravo gira sinistra perno quando parte perno quando parte devi allora così bravo bravo così dai sulle mani sulle mani Manuel un gancio col perno Manuel sulle mani Manuel ok devi a quel diretto dai ok sotto e sopra sotto e sopra sotto e sopra quel diretto toglilo solleva le mani solleva le mani bravo però vattene a sinistra col perno dai fai una parata col perno bravo 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 ok si si